Questo programma è offerto da Al buio da mesi e neanche il servizio di lampade evotive Queste le condizioni vergognose del cimitero di Ficarazzi Questa situazione di abbandono in cui versa la necropoli va avanti da mesi In estate il servizio veniva fornito ad interruzioni Da un mese a questa parte c'è completamente il buio Alcuni cittadini si sono attrezzati da sé portando dei lumini a batteria Tutti inascoltati, nemmeno una risposta, una giustificazione dall'amministrazione Come se il problema non esistesse Il posto dove riposano i nostri cari che ci hanno lasciato in questa valle di lacrime Non può essere abbandonato, trascurato così lasciato al buio per mesi interi Inoltre di sera anche la luce dei pari dell'illuminazione pubblica Dal corso principale di Ficarazzi fino al cimitero è sempre fioca e poco luminosa Qual è la ragione del problema? Questo lo chiediamo all'amministrazione tutta Ma soprattutto al nostro sindaco Martorana La situazione crea disagio non tanto per la fruibilità dei cimiteri da parte degli utenti Quanto per il significato che la loro presenza riveste ricordare i defunti E l'attuale situazione è veramente vergognosa Intascavano i soldi delle bollette E così con questa pesante accusa due dipendenti Amap sono finiti in manette Si tratta di Carmelo Di Bella, 56 anni e Carlo Fasetti, 52 anni I due accusati sarebbero degli addetti alle riscossioni dei debiti dei condomini morosi L'indagine è partita in seguito alle dichiarazioni fatte da alcuni dirigenti dell'Amap Che venivano intimiditi da due loschi individui con atteggiamenti in stile mafioso La coppia di furfanti riusciva a farla franca E dunque intascavano i soldi delle bollette Monopentendo il sistema informatico di controllo della società E raccogliendo così, in maniera del tutto illecita, circa 900.000 euro Controlli non stop in tutto il centro storico palermitano Un lavoro di squadra, quello condotto tra polizia, guardia di finanza e polizia municipale Che hanno lavorato insieme per controllare al meglio esercizi commerciali, veicoli e persone Il tutto in un'ampissima fetta di territorio, dalla Cala fino a Ballarò Sotto il setaccio degli uomini a servizio della legge, tantissimi pub, ristoranti, centri scommesse e officine mercaniche Per un totale di 137 persone controllate, 80 motoveicoli, 65 venture Per un totale di multe di oltre 14.000 euro Pesanti sanzioni, soprattutto a Ballarò Dove ad esempio il titolare di una tabaccheria è stato multato per oltre 2.000 euro You sexy, sexy dancer In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo Domenica 12 ottobre alle ore 20.30 il girasole di Bagheria Leggo Ospiterà la semifinale delle Voci del Mare Concorso Canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale Ma solo 5 arriveranno negli studio di Canale 8 per la grande finale Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica E prenotati al 333 2547 333 O su Facebook alla pagina Le Voci del Mare Semifinale Le Voci del Mare 12 ottobre ore 20.30 Presso il girasole di Bagheria Via del Macello 43 Ti aspettiamo La Commissione straordinaria di Altavilla Milice ha deliberato le nuove aliquote dell'addizionale IRPEF e dell'IMU Nonostante Altavilla Milice sia un comune economicamente sano e con debiti tra i più bassi del territorio a causa del patto di stabilità e di mancati introiti dallo Stato e della Regione Sicilia E' stata aumentata l'aliquota dell'addizionale IRPEF dal 0,5 al 0,8% La precedente percentuale di 0,5 è stata aumentata dopo ben 13 anni di stabilità Riguardo le nuove aliquote IMU Per i proprietari delle abitazioni non principali verrà applicato un'aliquota di 0,92% Di fronte al precedente 0,86% Riguardo questi nuovi aumenti è intervenuto ai nostri microfoni l'ex sindaco di Altavilla Milice Anino Parisi Siamo al telefono con l'ex sindaco di Altavilla Milice Anino Parisi Quale può essere stata la motivazione che ha portato a tale momento dopo ben 12 anni? Stiamo parlando quindi di IRPEF, IMU e anche della liquidatasi? Guardi, io non riesco a capire qual è stata la logica della razza della Commissione Stato Per arrivare a questi aumenti E' che il comunale della Milice Anino Parisi è uno dei comuni a punto di vista economico-finanziario Tanto è vero che ne devi accertare il conto consultivo che ha approvato l'amministrazione risciolta Hanno approvato che ci sono 6 milioni di euro circa È una liquidità non indifferente Non riesco a concepire questo metodo in questo momento di gravissima crisi economica E con un paese letteralmente in ginocchio Perché la disoccupazione di Altavilla ha raggiunto i livelli mai avuti prima E non è questa certa colpa di commissare attenzione Non sono pubblicato Stato quando hanno approvato la Tari Ho detto che loro hanno risparmiato approvando le stesse tariste del 2013 Che erano per la Tares Però la Tares comprendeva sia la Tari che la Tarsi Non capisco come mai nel ruolo del bilancio preventivo Mettono che ci sono i costi dell'anno 2013 Però vanno aumentare In questo caso a imporre la Tasi Quando altri comuni come Villafradi o Pollina Vanno soppressa Perché hanno portato a notte C'è lo stesso costo del servizio Non c'è motivo di mettere la Tasi Non c'è motivo di mettere la Tasi E quanto riguarda l'azionale ITERS E' stato un accesso abbastanza evidente Per il semplice fatto che fa colpire Quelle persone che svolgono Alcune delle quali anche fuori dalla Sicilia Vanno dalle sede in portatilla Nel loro stipendio Quindi tra te le famose 80 euro Di tre e si praticamente sono andate in fumo Perché dopo I pare che si è stata a 2001 Che si è stata in posta l'addizionale Allo 0,5 Adesso passa al massimo Con tuttavia la Tasi 0,8 Non mi pare la cosa tanto corretta Nei confronti dei lavoratori Cosa non facciano nei confronti dei disoccupati E' stata portata anche l'Imu Anche su questo caso Non capisco qual è stato il motivo Ragionamente per parte dall'aumento del l'Imu Dal momento in cui va a colpire Quelle persone in questo momento Trovando di magari disoccupate A questo punto la fortuna Di avere un'abitazione Secondaria Fatta con il loro lavoro in anni Di Germania, di America O comunque con il sudore Nella loro fronte Lavorando ai campi O nell'edilizia di Antagilla Quello che colpisce È che questo momento Si sta avendo Dopo ben 13 anni di stabilità Del comune di Antagilla Milice Che come diceva È un comune virtuoso E che comunque sia nelle casse Che nelle casse Si trova in una situazione differente Da comuni in dissesto Ad esempio Come quello di Pagheria Il comune di Antagilla Milice La comunità di Antagilla Milice La comunità di Antagilla Milice È stato riaccertato Il conflitto Che ha chiamato la vecchia amministrazione C'è una mia amministrazione Ed è stato confermato Che ci sono circa 5 milioni 960 milioni di amministrazione E con una liquida certa Il comune Ma in questo momento Ha tinto a nessuna risorsa Di quelle che ha messo disponibile La regione Come fonte di rotazione Eccetera Un disabilitamento quasi para zero Tranne i debiti sicuramente Un qualche imprese Ci saranno Che accertate Da i commissari Come giustamente Preve della legge Però scomune Altrimentale In una posizione In questo momento Che poteva non aumentare Dei chiude E il fatto che si ricorda Che ci sono meno Trasferimenti statali È un fatto assolutamente Non accettabile Che i commissari Come ho fatto io Ma c'è stato funzionare L'ufficio di Antaglia Nazione L'azione dei tributi In un giro di due mesi Abbiamo scoperto Circa 300 E la solita pare È l'uso di parziale Dei tributi Quindi se si fanno funzionare Un fisico Ho fatto io Senza ricordare Che la monta di intersterle Di vai a trovare Di particolare Che i vari tributi E non c'è motivo di aumentare È chiaro che diventa Un lavoro Un lavoro Un po' più semplice Andare a aumentare le tasse Perché Sono stati i soliti modi I stessi I contribuenti E in questo momento In particolare In cui naturalmente Tutti sappiamo Che non vediamo Da loro E anche la gente Che non le piace Quante ad arrivare A fine mese I lavoratori Quelli che non lavorano Potremmeno assicurato Il passaggio Di avere nuove familiari E vi ringrazio a voi E spero che i cittadini A Pernilla Prendano Spunto da questa cosa Per fare delle serie riflessioni Grazie La questione è molto seria Stiamo cercando Con qualunque mezzo Di trovare risorse finanziarie Finalizzate a poter risolvere Il problema Che coinvolge direttamente I nostri concittadini La cui Non soluzione Rischia contemporaneamente Anche di cancellare Le tracce Di un importante Sito storico E culturale Parole dure Del sindaco di Collesano Giovanni Battista Meli Che lancia l'allarme Sul precario stato Della torre del Castelbuono Medivale De Ventimiglia Monumento simbolo Del comune Madonita Da qui La decisione Del primo cittadino Che ha presentato Richiesta di contributo Alla presidenza Del consiglio dei ministri Richiedendo Lotto per mille Per l'iniziativa Di messa in sicurezza Dell'intera zona Si svolgerà oggi 3 ottobre 2014 A partire dalle ore 16 Presso il salone Delle conferenze Della sede Della comunità terapeutica Della casa dei giovani Incontrate in Corvino Il secondo seminario Itinerante sulle politiche Di sviluppo imprenditoriale Dal titolo Processi di internazionalizzazione Piano di sviluppo rurale Il convegno Che ha il patrocinio Della presidenza Della regione siciliana E' promosso Dalle associazioni Asel e Asaip Interverranno Per i saluti istituzionali Di benvenuto Il vice direttore Della comunità terapeutica Casa dei giovani Biagio Sciortino Il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque Ed il vice presidente Della commissione Bilancio all'Ars Onorevole Giovanni Di Giacinto Introdurranno i lavori Matteo Cocchiera Presidente dell'Asaip E Leonardo Passarello Presidente dell'Asaip Tra i relatori Il funzionario Creditari col diretti Sicilia Elio Barbera L'esperto In creazione di imprese E finanza agevolata Domenico Pipia E l'esperta Di internazionalizzazione Della PMI Maria Rosa Sanfilippo Concluderà i lavori Il senatore Della Repubblica Onorevole Giuseppe Lumia You sexy sexy dancer You sexy sexy dancer In un ambiente ancora più glamour Rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria Via Alongi 16 Ficarazzi Palermo Io voglio aiutare Apriti Cuore Perché Apriti Cuore ci aiuta sempre Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000 Firma a favore di Apriti Cuore Onlus A te non costa nulla in più Ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli Bambini vittime di maltrattamenti e abusi Minori stranieri senza famiglia E persone con disabilità psicofisica Aiutaci anche tu È stato un successo la festa che ieri la città di Montemaggiore Belsito Ha dedicato ai suoi 9 ultracentenari cittadini Svoltasi in piazza Roma Sono 5 donne e 4 nonni sprint Che hanno spento, alcuni già da qualche anno Ben 100 candeline La piazza colma di gente gioiosa Ed il sindaco Domenico Porretto Con tanto di fasce tricolore Hanno fatto festa con una torta di ben 120 chili A base di crema gialla, panna e cioccolato Presenti per la giornata del secolo e più Voluta dall'amministrazione in 6 Filippo Lentini, 102 anni Paolina Catalano Agata Geraci Vincenzo Impellitteri Sant'Arrizzo E Giuseppe Militello 100 anni Per la più longeva Vincenza Millonzi Di 104 anni E per Rosina Siragusa Di 101 Invece a passeggiare Sono arrivati i figli Quale che sia L'elisire di lunga vita Nascosto tra le vie del comune palermitano In molti Stanno già facendo un pensierino Per trasferirsi Tra i borghi del piccolo centro Immerso nelle madonie Sarà assegnato sabato 4 ottobre a Bagheria Nella sala Borremans di Palazzo Butera Il premio addetto stampa dell'anno Iniziativa lanciata dal gruppo Uffici Stampa Articolazione dell'Associazione Siciliana della Stampa La consegna dei riconoscimenti Sarà il momento conclusivo Di una giornata dedicata al tema degli Uffici Stampa Alla loro funzione nel rapporto tra istituzione e cittadini Alla sostanziale mancata applicazione Della legge 150 del 2000 E agli aspetti contrattuali e deontologici Legati alla figura dell'addetto stampa L'evento, sponsorizzato da Unicredit Ha ottenuto il patrocinio del comune di Bagheria Della sostampe dell'ordine dei giornalisti di Sicilia Che lo ha inserito tra gli appuntamenti vali Dei fini della formazione degli iscritti Titolo del convegno è Il giornalista degli uffici stampa Al servizio della trasparenza Diritti e doveri I lavori, coordinati dal presidente del GUS Sicilia Francesco Di Parenti Inizieranno alle 10 con i saluti del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque e del segretario della sostampa Alberto Ciccelo Del vice segretario della FNSI Luigi Rosinsvalle E di Vincenzo Tuminello Responsabile del settore pubblico Unicredit La Sicilia è una terra che possiede un fascino straordinario Grazie alle sue infinite bellezze I odori, i paesaggi, il mare, il sole, i monumenti E tantissime altre sfaccettature di una terra maledettamente bella E tutta questa bellezza non passa mai inosservata Ed è così che i più prestigiosi marchi italiani ed internazionali Hanno scelto la Sicilia come teatro delle proprie campagne pubblicitarie Che si tratti della sabbia bianca dell'isola di Pantelleria Del litorale incantato di Vendicari O della limonaia di una villa settecentesca Nei dintorni di Noto Le immagini catturate dai registi Sprigionano potenti emozioni Profumi e spaccati d'epoche passate In grado di coinvolgere chi vi assiste E di proiettarlo in un mondo spettacolare Colorato dai toni mitici A questa seduzione non hanno resistito nemmeno I marchi più importanti e i grandi alfieri del Made in Italy Come Dolce Gabbana Che per la campagna creata per promuovere il nuovo profumo Ha voluto usare come sfondo dei propri scatti Il meraviglioso giardino della splendida Villa Eleonora Nicolaci Di Villa Dorata nei pressi della cittadinoto O ancora Giorgio Armani Che ha scelto le spiagge di Pantelleria Per lo spot della sua nuova fragranza Ma anche il sapore della birra Trova tra i paesaggi della Sicilia La sua location ideale Con la birra Moretti Che ha girato il suo spot Tra le colline ricoperte Della limonaia di Savoca Insomma Malgrado le sue infinite contraddizioni Il fascino innegabile della Sicilia Ammalia senza distinzione Tutto e tutti Le ragazze del calcio a 5 di Ficarazzi Continuano la loro preparazione atletica In vista del campionato ormai alle porte Ma un disagio di non poco conto Pesa sugli allenamenti della giovane squadra Il presidente Francesco Latargia Fa sapere che la squadra Non riesce ancora ad avere La disponibilità del pala Sampognaro Di Ficarazzi E che quindi in questo periodo La strada è il luogo Dove avvengono gli allenamenti In tutto questo Anche la formazione maschile Dovrebbe iniziare il campionato Ma anche loro Senza alcuna certezza Su dove giocare E dove allenarsi Speriamo che il problema Venga risolto al più presto Intanto Non ci rimane che fare gli auguri Alle due squadre del calcio a 5 Grazie a tutti Questo programma è stato offerto da Un affettuoso abbraccio a tutti Grazie a tutti i simpatizzanti De Il Meteo.it Previsioni per venerdì 3 ottobre 2014 La perturbazione raggiunge il sud Con temporali in Puglia E coste ioniche In generale Migliora al nord e al centro Ecco il dettaglio preparato Da Il Meteo.it Al nord il cielo si pulisce Dalle nubi Cosicché il sole sarà dominante Salvo locali piogge deboli sulle alpi in serata Possibili foschie e mattutine Al nord ovest Al centro Ultime piogge in Abruzzo E Molise Peggiora sulla Sardegna Meridionale Con piogge Qualcuna ancora Sul Lazio Meridionale Sole prevalente Altrove Al sud temporali E piogge Sulla Puglia Golfo di Taranto Tutte le coste ioniche Fino alla Sicilia orientale Precipitazioni più irregolari Sul resto dei settori Dove non mancheranno Occasionali ed isolati temporali I venti soffiano deboli Dai quadranti settentrionali Su tutti i nostri bacini Temperature minime In leggera diminuzione Al nord Stabili altrove Comprese tra i tredici e i venti gradi Su tutta la penisola Durante il giorno Ci attendiamo Tra i ventuno E i ventisei gradi Su tutto lo stivale Amici Ilmeteo.it Vi ringrazia Per averci seguito E vi dà appuntamento Alla prossimo Aggiornamento Arrivederci Buona giornata Con l'Almanacco Barbanera Oggi è il 3 ottobre Si ricorda San Gerardo Il nome Gerardo Dal germanico Gerald Significa Abile nel maneggiare La lancia Dice il proverbio Prima di andare alla pesca Esamina ben bene La tua rete Sono nati oggi Eleonora Deuse Carmen Russo Gwen Stefani Il 3 ottobre 1226 Si spegne Alla porziuncola San Francesco Da allora La sera del 3 ottobre Si commemora Il transito Del fraticello Di Assisi Nel 1789 George Washington Proclama Il 4 giovedì di novembre Giorno del ringraziamento Una ricorrenza Che ancora oggi Si festeggia In tutti gli Stati Uniti Infine il 3 ottobre 1993 In Puglia Vengono alla luce I resti Dell'uomo di Altamura Una forma arcaica Dell'uomo di Neandertal Vissuto fra i 50.000 E i 65.000 anni fa Agostino Degas Ha detto Li chiamano piccoli gesti Una parola al momento giusto Una carezza Un sorriso Un gesto gentile Ma i gesti discreti e gentili Non sono mai piccoli Sono preziosi E straordinari Arrivederci da Barbanera Dal 1762 L'almanacco più amato d'Italia Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera L'almanacco italiano Dal 1762 Venerdì 3 ottobre Ariete La luna in acquario da oggi Vi concede numerose chance in più Soprattutto per quanto riguarda L'ambito dei vostri interessi culturali Approfittateli Con il weekend alle porte Tutto sembra perfetto Per organizzare un breve viaggio Con chi amate D'oro La vita sarebbe più semplice Se solo Non vi ostinate A tenere tutto per voi E vi apriste Almeno con le persone Che vi sono più vicine E invece state lì A rimuginare Con il risultato Di ingigantire oltremisura Anche i problemi più semplici Gemelli Guizzi d'amore Grazie a Venere Che complice Vi stelizza l'occhio Non state lì a pensarci troppo Non avete da far altro Che approfittarvi E pazienza Se il lavoro non ingrana Come vorreste Per il momento Forzare i tempi Non servirebbe Cancro Tutti gli impegni giornalieri Da rispettare E molto poca La voglia di darvi da fare Resistete Presto Col weekend alle porte Potrete riposare Possibili tensioni in famiglia Originate da discussioni Sull'assegnazione Dei rispettivi compiti Leone Con la luna In fastidiosa opposizione Dall'acquario Margini di manovra Non ce ne sono Perciò Lasciate stare Ogni tipo di operazione Azzardata Dovrete fare i conti Anche con una certa Irritabilità Dovuta soprattutto A problemi in famiglia Vergine Siete perplessi E dubbiosi Sulla farsi Questa spiccata Indecisione È la spiacevole Conseguenza Della poco favorevole Luna In un segno di aria Non forzate le azioni Rischiereste di cacciarvi Nei guai Per il momento È meglio restare Alla finestra Bilancia splendida Questa luna in acquario Se poi ci aggiungete Che Venere e Marte Continuano a fare Il tifo per voi Allora il capolavoro È fatto Divertimento Amicizie Brevi viaggi Sono i settori Che in questa fase Godono dei migliori auspici Scorpione Giornata movimentata L'insegna di numerosi Colpi di scena Che però probabilmente Non saranno Tutti così piacevoli Ci vuole pazienza Non date rete Al primo venuto E seguite solo Il vostro buon senso È il modo migliore Per evitare guai Sagittario Ottimi gli auspici astrali Che si addensano Sul vostro cielo Merito soprattutto Della luna Da oggi armoniosa In sintonia con Venere e Giove Si apre per voi Un periodo fortunato Non esitate Ad acchiappare Per la coda I doni della Dea Bendani Capricorno Il dilemma è Trascorrere questo Primo fine settimana Di ottobre Con gli amici Oppure Dedicarsi anima e corpo Al partner A voi L'ardua sentenza Alla fine A decidere potrebbe essere Un'urgenza lavorativa Che rinvierà Tutto a data Da destinarsi Aquario In flussi planetari Numerosi Ma purtroppo Piuttosto contraddittori Si addensano Sopra Il vostro cielo Giornata impegnativa E poco proficua Partite con il piede giusto E avete anche Delle ottime intuizioni Ma poi Finite col perdervi per strada Pesci Giornata in colore Priva di emozioni E di novità Se proprio Non volete rassegnarvi A tirare i reni in barca Lo sprint Dovete mettercelo voi Gli argomenti Non vi mancano Basta che facciate appello Alla vostra vitalità E il resto Verrà da sé Grazie